Sì, grazie Massimo. Buonasera, buonasera ai nostri telespettatori. Veniamo subito ai dati sull'aggiornamento del bollettino dei nuovi contagi. Oggi in Abruzzo si registrano 387 casi di età compresa tra i 6 mesi e i 94 anni. 39 in provincia dell'Aquila, 173 in quella di Chieti, 105 a Pescara e 66 a Teramo. Si registrano inoltre due deceduti. C'è da dire che il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato proprio quest'oggi l'ordinanza numero 8 relativa alla proroga di sette giorni della didattica a distanza e soprattutto ha disposto nuovamente il divieto di assembramento nei luoghi cittadini. Proprio perché, grazie anche alla bella giornata di quest'oggi, a Pescara soprattutto si sono registrati numerosi assembramenti, tantissima la gente sia sul lungomare ma anche in città. Veniamo in fine al terzo ed ultimo ciclo di screening che è previsto per oggi e domani a Pescara, riservato ai bambini delle scuole primarie, delle scuole elementari. Sono in tutto 5.250. Questa mattina si è registrata una buona affluenza, come ha sottolineato lo stesso vice sindaco Gianni Santilli, il quale ha ribadito che questo screening è necessario per poter garantire il ritorno a scuola con la didattica in presenza. Infine, da sottolineare che lo stesso vice sindaco ha disposto proprio quest'oggi la chiusura di tutte le aree verdi, di tutte le aree appunto destinate al tempo libero, allo svago, proprio per evitare gli assembramenti. Da Pescara è tutto, se non ci sono domande ringrazio Diego Martelli per il collegamento in diretta e ti restituisco la linea.